Entra in funzione in Toscana la centrale di ascolto InfoCovid, la prima attivata in Italia dopo il numero 1500 messo a disposizione dal Ministero. Nelle immagini vedete il Presidente della Regione Eugenio Gianni all'inaugurazione della struttura realizzata dall'Asla Toscana Centro alla Fortezza d'Abbasso di Firenze, nella stessa sede della Centrale per il Tracciamento dei Contagiati dal nuovo coronavirus. Abbiamo selezionato degli studenti, prevalentemente si tratta degli studenti, ma c'è anche qualche medico, qualche professionista sanitario che sono stati formati su sei linee principali di risposta che riguardano il tema delle vaccinazioni, i casi positivi, i contatti, le fine di isolamento, le prescrizioni, rientro a scuola oppure rientro dall'estero e però su questo e anche su altro cercano di dare risposte appropriate in tempi immediati. Già oggi, insomma, in primo inizio abbiamo avuto molte, molte richieste, la gran parte sul tema delle vaccinazioni, ma anche un po' tutti gli altri aspetti. Rimanendo in tema di vaccinazioni, la Toscana ha somministrato più del 90% delle dosi del vaccino Pfizer-BioNTech ricevute nei giorni scorsi ed è in attesa della terza fornitura in arrivo entro 24 ore. Io vorrei che tutti fossero vaccinati nello stesso istante, ma volendo noi possiamo solo accelerare questo processo e il messaggio è che tutti saranno vaccinati, cerchiamo di accelerare il più possibile questa procedura e questo meccanismo.